Francesco Menna è il nuovo presidente della provincia di Chieti. Ora è ufficiale dopo le elezioni bis che sono state ripetute nella giornata di ieri. Un atto dovuto dopo quanto accaduto nella prima tornata in cui alcune schede sbagliate avevano inficiato il risultato finale. Queste le prime parole di Menna da neopresidente. Una grande emozione, un grande senso di responsabilità pronti a lavorare fin da subito pronti a chiedere 104 fascicoli per 104 comuni e a unire i consiglieri, la consigliatura provinciale affinché sulle priorità si agisca subito. C'era stato un ricorso del centrodestra prima della sua elezione bis, poi tutto è rientrato. Sì, da quello che ho appreso il ricorso è stato rigettato dal TAR. Ieri sera in tarda nottata la proclamazione credo che adesso bisogna pensare non ai ricorsi ma a fare politica a bene amministrare al buon governo della provincia di Chieti. Tra i primi punti? Viabilità, piano nazionale di ripresa e resilienza, vecchie stazioni ferroviarie, le quattro vecchie stazioni ferroviarie, l'edilizia scolastica e naturalmente tanto tanto lavoro per la provincia di Chieti. Con lui sono stati eletti nelle file del centro-sinistra Arturo Scopino, Davide Loris Caporale, Angelo Radica, Massimo Tiberini, Carlo Moro, Marco Filippo Di Giovanni e Sergio Furia. Per il centrodestra gli eletti sono Giuseppe Luciani, Stefano Costa, Carla Di Biase, Eugenio Caporella e Guido Gian Giacomo.